Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Cristian e si è su Crypto Itac. Oggi vedremo il Bitcoin su time frame orario, giornaliero e daremo anche uno sguardo per quanto riguarda il trimestre, dato che con la giornata odierna si chiude la candela trimestrale. Dopodiché daremo anche uno sguardo alla Dominance 2 SDT, che ci sta dando sempre degli ottimi spunti per quanto riguarda l'andamento del Bitcoin, Bitcoin, XRP e XRP contro Bitcoin, dopodiché anche Ethereum, poi le ultime notizie della giornata odierna che ho selezionato per voi. Prima di iniziare voglio intanto ringraziarvi a tutti quanti per il sostegno che mi state dando, mi raccomando se vi piacciono i miei contenuti, se volete continuare a riceverli, lasciatemi un bel like di supporto, iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate fatto e attivate il click sulla campanellina, dato che io lascerò dei contenuti quotidiani sul mondo delle criptovalute. Iniziamo subito col Bitcoin, in questo momento ci troviamo a 28.404 dollari, nelle ultime 24 ore abbiamo guadagnato l'1,75%, nell'ultimo mese il 20,68%, dall'inizio dell'anno il 69,40%. L'indice paura avidità si sta spostando in zona avidità al valore di 63%. Stiamo oscillando sempre in avidità in questi ultimi giorni, però non siamo ancora in FOMO, quindi è ancora abbastanza tranquillo e abbiamo ancora un'eventuale margine di salita, benché bisogna avere comunque attenzione quando ci troviamo dalla parte destra di questo indicatore qui. Quindi comunque massima attenzione. Spostiamoci sul Bitcoin time frame orario e possiamo notare come dal primo impulso che abbiamo avuto nel 27 marzo alle ore 17, sino al nostro top locale, abbiamo ritracciato esattamente sino allo 0,61 di Fibonacci e da qui abbiamo rimbalzato. Questa qui è proprio la candela di questa mattina delle 9. In coincidenza, insieme allo 0,61 di Fibonacci, vi sposto velocemente sulla Dominance, abbiamo anche toccato, sempre nella candela delle 9, esattamente la mediana di questo canale rialzista per quanto riguarda USDT e quindi io da qui mi aspettavo una bella discesa della Dominance e una bella salita di Bitcoin. E infatti così è stato, abbiamo avuto un bellissimo impulso. Ora ci siamo bloccati sullo 0,23 di Fibonacci ma il Bitcoin è messo a mio avviso veramente bene quindi potrebbe continuare questa fase rialzista anche nelle prossime ore. Ricordiamoci comunque che ora sta per iniziare il weekend e che il weekend in genere è sempre più tranquillo rispetto ai giorni feriali, quindi potremmo aspettarci dei movimenti un po' più bruschi a partire dal lunedì, anche se non è detto. Spostiamoci sul Bitcoin time frame giornaliero, notiamo che l'RSI è comunque abbastanza alto ma stiamo comunque al di sotto dell'ipercomprato, quindi anche in questo caso ci sta un potenziale margine di salita e di crescita. La cosa che volevo farvi notare è che come in questa fase qui di gennaio e dell'impulso che abbiamo avuto a gennaio che abbiamo tenuto benissimo lo 0,23 di Fibonacci dall'impulso sino al local top abbiamo rimbalzato sullo 0,23 e da qui abbiamo avuto la forza necessaria per dare un'ulteriore spinta rialzista. In questo caso dall'impulso che abbiamo avuto toccando la 200 settimane che è questa linea mobile viola stiamo continuando a tenere lo 0,23 di Fibonacci e questo è un ottimo segnale a mio avviso perché potremmo da qui avere ulteriore spinta per poter superare il nostro local massimo che si trova intorno ai 29,100 che abbiamo fatto nella giornata di ieri e quindi potremmo andare a spingerci oltre. Ora dove potremmo arrivare? Allora innanzitutto ovviamente oltre a salire possiamo anche scendere qualora dovessimo scendere mi aspetto comunque un forte supporto da parte di questo canale giallo quindi la parte superiore di questo canale giallo potrebbe fare da ottimo supporto dato che in questa fase qui ha fatto da fortissima resistenza vedete quante volte ci ha respinto? Vuol dire che questo canale sta continuando a funzionare e potrebbe aiutarci come supporto qualora non dovesse tenere comunque il secondo supporto sarebbe la 200 settimane che io su quella confido tantissimo che da questo grafico non si vede eccola qui in questo momento si trova a 25,500 dollari ma quello che volevo farvi vedere è che qualora dovessimo salire di impulso a mio avviso un target plausibile potrebbero essere i 32,002 e perché vi ho segnato i 32,002? perché è una zona di forte liquidità infatti se ci spostiamo scusate se ci spostiamo su time frame settimanale possiamo vedere che al di là della liquidità della zona attuale che comunque è molto forte possiamo notare come i 32,200 abbiano fatto da fortissimo supporto per queste candele guardate tutte queste shadow e come sono state comunque risucchiate al di sopra di questo importo qui quindi io mi aspetto che sino a questo punto ci possa essere una sorta di calamita quindi potremmo continuare a salire sino ai 32k da questo punto di vista guardando il settimanale qualora avessimo ancora forza prima di eventualmente ritracciare anche perché ricordiamoci che non si può salire all'infinito quindi una salita sana come è stata questa qui gli fa solo bene infatti vedete che poi abbiamo avuto una prosecuzione di questa fase del sistema anche se qui già vedevo quanto panico si era creato in giro io mi aspettavo comunque una forte resistenza e lo potete vedere anche nei video precedenti un forte supporto da parte della 200 giorni e infatti guardate che impulso pazzesco che abbiamo avuto quindi a mio avviso le linee mobili la 200 giorni la 200 settimane la 111 giorni sono tre linee veramente importanti per questa fase rialzista quindi dato che con la candela odierna si chiuderà anche la candela trimestrale ci spostiamo su bitcoin time frame tre mesi e possiamo notare come stiamo chiudendo esattamente allo stesso livello della candela che abbiamo avuto trimestralmente quella di ottobre del 2020 quindi qui comunque noi abbiamo della forte resistenza da parte del prezzo vediamo se riusciamo comunque a chiudere qui è un'ottima candela di prosecuzione di questa fase rialzista ci siamo mangiati due candele trimestrali precedenti con un'unica candela e quindi potremmo eventualmente continuare questa fase rialzista anche perché io mi aspetto che questi rialzi durino sino a maggio primissimi di giugno per avere ancora più chiaro il proseguio del bitcoin conviene sempre guardare e dare uno sguardo alla dominanza di usdt allora innanzitutto la dominanza di usdt sta proseguendo su questo canale rialzista vi ricordo che i canali rialzisti nell'80% dei casi rompono al ribasso quindi è un canale che potrà continuare ma una volta che verrà rotto verrà rotto molto probabilmente al ribasso è molto raro che vengano rotti al rialzo e succede soltanto quando un asset è veramente veramente bullish e tra parentesi guardate qui a proposito di raro rompere e quanto è bullish rompere al rialzo quindi aperta e chiusa parentesi quindi cosa mi aspetto da questo punto di vista allora innanzitutto eravamo rimasti in questa zona qui abbiamo visto come è andato a provare a pescare e a toccare il supporto non ci siamo arrivati con la candela dopo quindi subito siamo stati respinti a mio avviso da questo supporto di questa linea blu poi abbiamo siamo andati a ritestare la mediana del canale l'abbiamo testata una o due volte siamo stati respinti in entrambe le volte e adesso ci siamo chiusi all'interno di questo corridoio che si trova tra il 6,94% e il 6,86% quindi ora stiamo in questa fase qui ma secondo me adesso andremo a testare questo supporto e speriamo che sia la volta buona per romperlo finalmente e per andare a puntare al al boss che si trova attualmente a 6,52% qualora dovessimo rompere questo canale rialzista e dovessimo andare ad attestarlo questo questo potrebbe essere il margine giusto per far arrivare il bitcoin intorno ai 32 mila dollari o forse anche qualcosina in più vediamo come proseguirà ora spostiamoci su xrp perché è sempre utile guardare i maggiori asset quelli con la maggiore capitalizzazione per poter capire qual è l'andamento proprio del settore delle criptovalute quindi secondo me non è buono concentrarsi soltanto su un unico asset ma è meglio osservare i maggiori asset che che occupano questo settore in modo da poter avere una visione più chiara di come si stanno spostando anche i capitali perché ricordatevi come chi di voi saprà magari della precedente blue run o delle precedenti blue run per chi ha più esperienza perché ci sono tante persone di voi che hanno tanta esperienza che mi stanno seguendo se vi ricordate quando ci sono delle blue run o quando ci sono dei bull market il capitale inizialmente sta tutto su bitcoin o la maggior parte quindi è il bitcoin che parte e tutte le altre criptovalute stanno tutte quante rallentando e stanno all'inseguimento un po' come la fase che abbiamo avuto in questi mesi iniziali dopodiché incomincia a spostarsi il capitale sulle criptovalute con una capitalizzazione più grande in questo caso potrebbe essere ethereum quindi è molto probabile che una volta che bitcoin finisca questa fase rialzista inizi veramente ethereum a fare sul serio e da lì potremmo vederne delle belle su ethereum e secondo me non manca tantissimo come vi ho detto secondo me questa fase rialzista potrebbe durare per un altro paio di mesi al massimo una volta spostata da ethereum potremmo anche vedere anche tutte le altre asset quindi anche xrp anche ada matic e tutte le altre di media piccola capitalizzazione e in quel caso potremmo vederne delle belle prima poi di una fase prolungata di lateralizzazione che potrebbe portarci poi al bull market del 2024 2025 quindi xrp su xrp abbiamo finalmente messo la testa sopra anche la 200 settimane quindi questa cosa è veramente bullish quindi io comunque mi aspetto una prosecuzione di questa fase rialzista anche per quanto riguarda xrp che seguirà il bitcoin ora vediamo appena toccherà questo supporto di questa mediana se incomincerà di nuovo a partire comunque mi aspetto che nei prossimi giorni possa anche andare a superare lo 058 dollari che ha segnato in questo momento guardate da quando abbiamo rotto questa linea mediana di questa trend line del bear market che bellissimo impulso rialzista che abbiamo avuto abbiamo e io da qui vi avevo avvisato che l'avevamo rotta in questo momento siamo a un più 42% dalla rottura quindi è veramente un ottimo punteggio ma secondo me non è finita qui potremmo andare a fare un ulteriore rialzo per poi magari provare a testare la 200 settimane e da lì provare l'attacco di questa trend line indiscendente che è il nostro final boss questa qui blu del nostro bear market quindi una volta che riusciremo da qui a romperla a rialzo potremo vedere veramente delle candele a mio avviso pazzesche per quanto riguarda XRP ovviamente i miei non sono né consigli finanziari né dei trading sono soltanto le mie opinioni mi raccomando prima di investire pensateci bene fatelo con la vostra testa diamo uno sguardo anche a XRP contro Bitcoin anche questo è molto interessante anche in questo caso ci troviamo all'interno di un triangolo siamo andati a testare questo supporto arancione che dal nostro top aveva avuto una resistenza qui abbiamo fatto un fake out perché abbiamo fatto prima un supporto qui aspetta ve lo zoom un po' prima abbiamo toccato il supporto poi sembrava che avessimo trovato la spinta giusta ma siamo stati respinti da questa linea blu dopodiché siamo scesi ora mancano due giorni alla chiusura mensile quindi vediamo un attimo se riusciamo a tenere la testa al di sopra qualora dovessimo uscire a tenere la testa al di sopra di questa linea blu secondo me il target anche se qui abbiamo avuto un'ottima resistenza sulla 200 giorni ma farà da forte calamita la 200 settimane quindi secondo me il target sarà questo tutto dipenderà da come chiuderà questa candela che poi fra due giorni vedremo insieme daremo un'occhiata anche ethereum io lo vedo molto bene perché abbiamo rotto la trendline discendente questa qui arancione l'abbiamo utilizzata anche come supporto e quindi io da qui mi aspetto una bella spinta da parte di ethereum che potrebbe iniziare quando magari si tranquillizza un po' il bitcoin e quando i capitali incominciano a spostarsi su ethereum che la cosa potrebbe anche avvenire magari fra un mesetto e mezzo più o meno quindi fine maggio potremmo vedere questo spostamento di capitali e una lateralizzazione del bitcoin prima o poi di un ritracciamento con lateralizzazione che potrebbe essere un po' più prolungato passiamoci e vediamo le notizie più importanti della giornata allora innanzitutto ftxeu lancia il sito web dedicato al prelievo del rimborso degli utenti europei però questa notizia io l'ho sentita anche da altri altri youtuber ma quello che volevo farvi notare è che qui comunque viene specificato è che in realtà esistono due ftx e che l'ftx eu ltd che è quello che sta facendo il rimborso in realtà è in attività da marzo del 2022 quindi solo chi si è iscritto da marzo 2022 potrà avere questo rimborso da quanto si è capito ovviamente se voi avete del capitale su ftx informatevi vedete se se potrete avere il vostro eventuale rimborso in euro quindi qui dice nonostante ftxeu fosse disponibile per gli utenti dello spazio economico europeo e del medio oriente non è chiaro quanti utenti siano stati danneggiati ftxeu ha iniziato la sua attività nel marzo del 2022 mentre l'impresa globale è crollata a novembre per cui non si prevede un numero elevato di utenti quindi ragazzi su questa cosa vi invito ad informarvi bene poi la russia illustra la possibilità di sviluppo di una nuova valuta per i paesi brics ricordiamo che i paesi brics sono brasile russia india cina e sud africa quindi secondo quanto riportato dalla stampa locale il vice presidente della duma di stato alexander babakov ha pronunciato queste dichiarazioni in occasione dell'evento del forum economico internazionale di san pietroburgo a nuova daily in india babakov avrebbe sottolineato l'importanza che queste nazioni lavorino per un nuovo mezzo di pagamento vogliono far fuori il dollaro non c'è niente da fare aggiungendo che i pagamenti digitali potrebbero essere più promettenti e redditizi è inoltre affermato che la veluta potrebbe avvantaggiare la cina e gli altri membri della brics e non l'occidente quindi il mondo purtroppo sta iniziando a dividersi in due parti da una parte ci sono gli stati membri della nato praticamente quindi europa stati uniti giappone canada e dall'altra invece ci sono questi qui che sono quindi america del sud sud africa e asia un'altra bella notizia è che appunto i ledger azienda produttrice di hard wallet che è la più importante a mio avviso ed è quella che utilizzo anch'io raccoglie 100 milioni di euro grazie alla crescente richiesta di self custody quindi molti utenti stanno iniziando a capire che non bisogna lasciare le proprie criptovalute all'interno di un exchange perché gli exchange possono fallire e abbiamo avuto varie dimostrazioni nessun exchange è al sicuro con nessuno exchange sei tutelato e sei rimborsato di eventuali problemi quindi io quello che vi consiglio è di munirvi di un bel ledger di un bel hard wallet e di custodirvi le criptovalute in un hard wallet a meno che voi non facciate trading giornaliero e a quel punto diventa quasi scomodo e questo è comprensibile quindi magari valutate voi e per oggi è tutto mi raccomando se il video vi è piaciuto un bel like mi farebbe tantissimo piacere e noi ci vediamo domani ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.